Qual è lo sport più amato in Italia? Sicuramente il calcio e poi a seguire la palla a volo e poi il rugby prende quota. In una città come Catania qual è lo sport più amato? Sicuramente il calcio che prevede anche nella top 10 dei club calcistici e nel supporto dei tifosi la storica curva nord del Catania Calcio. Però vi è un altro sport che a Catania fonda le sue radici a livello nazionale ed espatria e porta medaglie d'oro da tutte le parti ed è la scherma. Il libro che si recensisce stasera per letto, riletto, recensito è La stoccata vincente di Paolo Pizzo e Maurizio Nicita. Uscito e pubblicato per Spending e Caffet. Il libro racconta le vicende di Paolo Pizzo, campione del mondo nel 2011 catanese. E nel 2017 sino al 2016. Quasi una profezia questo libro perché la conclusione straordinaria. Quando lui ringrazia il maestro, proprio l'ultima frase, grazie maestro. Qualche giorno fa per la seconda volta è diventato campione del mondo. Ma la prima volta fu nel 2011 e fu campione del mondo a Catania. Torniamo indietro un attimo. Paolo Pizzo ha 33 anni. A 13 anni comincia ad avere dei capogiri. Cade a testa. È tra i migliori giovani osservati italiani che tirano di fioretto, di spada, di sciambola. È straordinario. Proviene da una famiglia di sportivi. Il padre e la madre sono insegnanti, sefrizi pure. Vivono nella collina catanese, a Pedara. Un paese in provincia di Catania un po' più alto rispetto alla prima cintura. Ecco, definiamola così. Cade a terra. I mal di testa. Si rialza. E gli rindonda sempre. Gli rindondano sempre due parole che non starò qui a dirvi. Perché tornano spesso. Torneranno due elementi. La data del 12 ottobre è queste due parole. Non è una schizofrenia. Non è un suono ecufene. Paolo Pizzo ha un tumore nel cervello. E ha 13 anni. Una promessa della scherma italiana rischia di non poter gareggiare più, se non addirittura di morire. Sappiamo bene che i tumori sono sempre un terno all'otto quando riescono ad essere debellati. Si ingrassa. È la forza personale interiore, quasi l'esuberanza di questo grandissimo atleta. E la familiarità, la forza della famiglia, l'unione, il valore in cui crede. Il padre che in maniera cruda diventa una persona, uno scienziato che si dedica totalmente a capire se il figlio deve fare chemioterapia o meno. La madre che non gli fa apparire il dolore ma lui se ne accorge e piange da un'altra parte. Ma lo sollecita, lo prende con forza ad andare ad osservare le universiari. riscatta la molla nella testa di Paolo. Maurizio Niccita racconta la vita di Paolo Pizzo, che è scritto da AB2, giornalista della Gazzetta dello Sport, Maurizio Niccita, in maniera bellissima e straordinaria. Come parte? Nel 2011 a Catania ci sono i mondiali di scherma. Paolo Pizzo è campione del mondo per la prima volta, appena sette giorni prima, dopo sette anni di relazione con Daniela, la sua compagna, casa comperata a Roma, progetti straordinaria, lo lascia, lo abbandona, non si capisce il perché. È quasi col tono dell'umore abbassato. Forse sarà questa la spinta che lo porterà a vincere. Stiamo attenti, signori. batte personaggi del calibro di, non mi dite nomi perché non me li ricordo, straordinari, arriva in finale e vince, è campione del mondo. Quanto Daniela, qualche giorno prima, Paolo, viene a sapere che non ne vuole sapere più nulla, scusa del gioco di parole. Poi ci saranno altri impegni, si risolleverà, si riprenderà, si allenerà, conoscerà un'altra donna, si sposerà. Le nonne, tutte e due che si chiamano Lavinia, i nonni sono importanti nella vita e nella carriera di questo giovane atleta, che oggi ha 33-34 anni, dell'83-34 anni. E Catania ha sfornito e ha sfornato un altro figlio alla scherma, che ci rappresenta nel mondo. Cosa succede, frattanto? Il militare è in aeronautica. Il ragazzo fa andirvieni. Roma-Catania. Roma-Catania. Si allena, ci sono dei momenti, un periodo della sua vita che entra al mattino, fa una pausa breve, ma sempre dentro la palestra, e finisce alla sera stanco, stramorto. La sua carriera si corona con altre vittorie, con coscienti sconfitte, perché c'è molto di psicologico, e questa è la grandezza di aver messo per iscritto le sue debolezze. E poi si rialza sempre l'insegnamento del padre. Paolo Pizzo è bandiera nazionale, che ci rappresenta a livello planetario. Paolo Pizzo è un siciliano, Paolo Pizzo è un mio cittadino catanese. E questo qui è motivo di orgoglio della recensione che io ho fatto a questo libro, scritto da Maurizio Nicita, su e con Paolo Pizzo. Il voto rigorosamente è 10. E stiamo attenti, non mi importa che qui vi sia scritto come ho sconfitto il cancro e raggiungo il mio sogno, e ho aggiunto il mio sogno. Sogni ne hai raggiunti, ma altri invece ancora non riesci a raggiungerli. Perché? Perché è una persona che si mette sempre in gioco, come le Olimpiadi. Non c'è demagogia. Il libro è straordinario. Gli incroci tra il percorso sportivo, la malattia, la famiglia e il concetto, il culto di famiglia e la fede. Paolo Pizzo è ateo, a modo suo. Crede nella scienza e crede nella propria interiorità. Che se riportiamo e ci riavviciniamo all'inguismo yoga nandiano, la propria interiorità è divinità. Questo libro merita il 10. Alla prossima, da Salvatore Massimo Fazio, di Letto, Riletto, Recensito. Seguiteci, iscrivetevi al canale YouTube, seguiteci nella pagina Facebook, nel gruppo Quelli che è Letto, Riletto, Recensito, sempre di Facebook, nel canale Twitter e nel canale Instagram. Ciao a tutti! Alla prossima, da Salvatore Massimo Fazio, di Letto, Riletto, Recensito.